Benvenuti a questo nuovo video. Oggi faremo la potenza di Vincenzo. Io mi sfiderò contro di Vincenzo. Io sono Vincenzo. Io sono Napoli. Insigne. Tottolato e magnifico. Di Bala. Inizio io. Faremo 20. Mi raccomando ragazzi mettete 40.000 like. 5-0 ragazzi. 5-0 ragazzi. 5-0 brava. 5-0 brava. Quasi 10-0. Brava. Quasi 10-0. Nooo. 5-0. Dai. Insigne di cacca. Sonne magnifico. La gioia. La gioia. 5-0. Quasi 10-0. Come dice la canzone. L'ha pagato 40.000. La gioia lì. 5-0. 5-0. 6-0 ragazzi. Va bene. Va bene ragazzi. Tutto a testa. 6-5. Raga. Quasi 11-5. 5-0. 6-0. Non è sempre. 35-5. 6-5 per me. 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 0-5 per me. Si può arrivare dieci. Ma non ci può arrivare dieci. Ma non ci può arrivare dieci. Ma non ci puo' arrivare dieci. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo perception. Ma non ci credo però la. Ancora 5-6. 6-5 per me. va bene si accenderebbe quasi quasi è caduta non ci credo veramente si è caduta si è accenderebbe aspetta cavolo pazzo tu merda ci sei tu poverino ti ammazzo ancora sei accendere no 5 7 percibola 8 a 5 per di bala 9 a 5 per di bala brava 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 quasi quasi C'è chiacchia? C'è chiacchia in caraia? 15 a 6 Ancora per recuperarmi E' tanto Ragazzi ma nessuno vuole farlo E' caduto E' caduto E' caduto Ora E' la porta di bacio Quasi non c'è Ho potuto scottare la gamba Vai Siiii 11 a 15 15 a 11 Sete Sete 15 a 16 Sè 11 a 16 Sè Sè 16 a 11 Perchè? 16 a 11 NOOOOO Non credo mi acci No, 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 no. Ma che cazzo? 18-11! 19-11! No!